...altro taglio... No, onestamente io non sapevo che fossero compagni nella vita del mondo perché dalla Cina trappellano un corpo solitario che soprattutto sono vicende private ...la dichiarazione... ...e l'acqua che non ha avuto sul podio... ...lo spettacolo nello smerbazzo ...e l'acqua praticamente ...sì! ...cos'anni, sì! ...guardo nel pubblico ...questo è proprio la storia ...questo si parli e poi ecco la storia ...fantastico ...che nozioni! ...fantastico ...è tutto il pubblico ...ve ne ha fatte piangere parecchio, non sapevo... ...mi sono subito di azione ...solo che per dire cinesi ...quadre sempre non gli avendo